Start, 2, 1, missione e liftoff! Per chi non avesse visto il video di tre anni fa, è un gioco dove dobbiamo scavare pietre, craftare oggetti e venderli, evolvendo sempre di più la nostra industria, passando anche per la fase dei collegamenti logici, quindi le automazioni. Come vedete appunto ci sono i personaggi, all'inizio non ce n'erano, parlano, sono doppiati in inglese ovviamente, è tradotto in italiano tranne qualche frase, e in sintesi noi abbiamo anche la possibilità di guidare mezzi che funzionano ad acqua, questo è il mezzo. Il mezzo rispetto a quando usci il gioco è molto più veloce e molto più smooth. Il gioco ha una grandissima particolarità, voi non avete un inventario e avete la possibilità di tenere in mano solo un oggetto alla volta, quindi vedete che io ho la cassa, ho i soldi, li metto nella cassa e qua non me li ha presi. Devo dire una cosa veramente ottima, è purtroppo, vi dico la verità, è la prima volta che capita questa cosa perché è ok, probabilmente sul mezzo lì non funziona. La cosa veramente ottima è che quando voi appoggiate qualcosa anche sporgente e guidate non salta giù, così come quando mettete qualcosa nel secchio non esce, assolutamente. E prima di arrivare al casino là, vi spiego un attimino, potete tenere solo un oggetto alla volta, quindi se dovete andare a consegnare oggetti da vendere, li dovete mettere in un contenitore, li portate più di uno, lo vendete, ad esempio qua in alto c'è una stazione di vendita, adesso poi vi faccio vedere, e così via. Qua abbiamo la mappa, ce n'è una gratuita, vedete che ci mostra dove siamo noi, ci sono dei giacimenti poi acquistabili da poter scavare, questo è uno, ci viene dato all'inizio del gioco, la mappa è abbastanza ampia, bella grossa insomma, con segnati tutti i vari negozi. Gli stock market, praticamente gli stock market danno la possibilità di guadagnare più soldi in base a cosa vendiamo, se quell'oggetto è valutato di più rispetto alla media, insomma seguendo delle quotazioni di mercato. Fatemi rimettere, vedete, solo una mano, solo un oggetto alla volta. Quello che voi fate all'inizio del gioco, praticamente è molto semplice, avete una pala, avete un secchiello, avete una tinozza grande, vi faccio vedere. Vediamo un attimo, ignorate tutto il resto perché vi faccio vedere giusto giusto l'inizio. Avete una tinozza grande e in pratica quello che fate a ripetizione è scavare la terra. Adesso voglio scavare un punto, scavate, tasto sinistro, svoltate lì, scavate lì, scavate lì, scavate lì, scavate lì. Prendo con il tasto E la tinozza, la butto nell'acqua, la rimetto qui e praticamente prendiamo questo col tasto E. Vedete che c'è il puntatore e l'ombra, svuoto all'interno, prendo la spazzola, spazzolo e trovo all'interno vari materiali. I materiali li prendo uno a uno, compro al negozio il crogiolo, lo metto nel crogiolo, metto il crogiolo qui. Quando il crogiolo è pronto e all'interno si sente sfrigolare e non c'è più il pezzo, diventa liquido, lo prendo e lo svolto nello stampino e ottengo il lingotto. Questo all'inizio è quello che facciamo, l'inizio è obbligato per tutti. Poi pian piano iniziamo a ottimizzare. Ovviamente il primo negozio da cui potrete attingere, dove potrete spendere i vostri soldi, adesso io prendo della moneta che ho qui, è questo. Quindi voi mettete i soldi già qui all'inizio. Voglio comprare qualcosa, la prima cosa che comprerete è magari la mola per raffinare le gemme che trovate, piuttosto che appunto la fornace che abbiamo appena usato, il crogiolo, lo stampino, vedete tutti i prezzi, l'incudine. Adesso il gioco si è fermato perché sta salvando. C'è il martello da fabbro e così via. Adesso vi faccio vedere. Appena finisce il save, insomma. Io ho giocato sei ore in questi giorni, perché ovviamente in questi turni di lavoro che ho nell'ultimo periodo ho la mattina libera, quindi la mattina libera faccio vari giochi, mi porto avanti vari giochi così per esplorarli. Adesso io che cosa compro per farvi vedere? Compro questo, lo appoggio qui, se esco lancia un urlo perché viene a riprenderselo. Lo prendo, lo appoggio qui e vedete che mi fa il conto. Ho 22, ne ho 72 quindi mi ne resteranno 50, vedete? Però io devo prendere questo e portarlo là o caricarlo sul camera e portarlo là. Devo fare attenzione che i soldi comunque sono sempre un oggetto alla volta. A volte ho l'impressione di giocare come se lo sviluppatore mi avesse detto guarda giocalo con una mano sola, con la mano legata dietro la schiena. Mi sembra, l'impressione era questa all'inizio. Poi in realtà ci fate un pochino l'abitudine ed entrate in questa meccanica di gioco che lo rende praticamente unico. Allora, dopodiché io vi mostro invece la mia ultima creazione. Dopo numerose, beh l'acquisto del piccone che mi permette di scavare, non scavare per raccogliere ma scavare per distruggere, ho costruito questo sistema qui. Praticamente quello che muove tutto in questo gioco è l'acqua. L'acqua viene presa gratuitamente quindi senza spese di energia da una pompa e ad ogni pezzo di tubo perde il 3% di pressione. Qui ho messo questo, qui possiamo metterci dei cristalli come questo per potenziare la potenza dell'acqua quindi dargli più pressione, avrei dovuto metterlo dopo, vabbè. Arriva, si divide e va ad alimentare questa trivella che scava. Si divide, c'è il filtro perché con l'acqua non filtrata si rovina prima. Poi ovviamente ho il mio set di trezzi perché ogni tanto inizia a scintillare qualcosa, vuol dire che è rotto. Si divide e va sotto. Sotto fa questo percorso perché questi nastri trasportatori devono essere messi sopra i tubi per forza perché il tubo, l'acqua lo alimenta. Quindi il tubo passa, fa tutto questo giro, alimenta queste e alimenta questo che è quello che rompe i blocchi di terra. Quindi come se noi strofinassimo la terra nell'acqua e guardate il risultato. Adesso è già tutto acceso, solo messo questa, queste le potete mettere come volete. Riapro l'acqua, vedete che pompa, butta fuori, tutto sale, finisce dentro, vedete questo pezzo che sta finendo dentro e finisce tutto qua e continua così. Ovviamente io poi ho deciso di semplificarmi ulteriormente la vita. Il crogiolo è scomodo perché dovete, uh cazzarola, vedete che il crogiolo è qui da un bel po' e dovrebbe avere dentro che è del liquido. Dovete aspettare che si sciolga, vedete, poi avete il lingotto. Il lingotto è un lingotto di ferro, con l'incudine potete cliccandoci scegliere che cosa fare. Qua avete un lingotto rovente, due lingotti roventi tre, poi avete qua presumibilmente sì l'oro e una pietra preziosa. Dovete metterli qui nella parte primaria del crogiolo. Però va fatto scaldare, deve diventare rosso incandescente. Dopodiché lo appoggiamo qua, prendiamo il martello e martelliamo e creiamo l'oggetto. Così come la pietra preziosa, vedete che è questa, se avessi dell'oro, adesso io dovrei averlo di là, potete farlo. Adesso io attendo ancora un attimino quando diventa bello rosso rovente. Dovrebbe forse andare bene, guardo bene l'ombra, lo appoggio qui, prendo il martellone e il martello e vedete che creo il mio oggettino che poi andrò a vendere. Ora, questo invece è un pochino più veloce perché lo fonde istantaneamente. Quindi io ho già due lingotti pronti, adesso devo stare attento a non mischiarli. Quindi metto il ferro, si fonde subito, metto del ferro, metto del ferro, premo e mi creo il lingotto. Non sono contento, lingotto di ferro, lingotto di ferro e mi creo il lingotto più grande. Quindi questa è una grande semplificazione della cosa. È ancora rovente, quindi va bene. Voglio farmi un lingottino d'oro, anzi no. Voglio usare questo lingottino d'oro, dovrei spostarlo in cudine qui, per fare la pietra preziosa. Quindi io vado, lo metto qui, avrei potuto metterlo di là ma devo spostare tutto. Calcolate, vi spiego mentre sta friggendo il lingotto, che ci sono diversi negozi che vendono automazioni, poi quelli con la logica, quindi se non dividere le cose e le risorse in automatico. Ci sono i blocchi per l'housing, potete farvi la casa, potete farvi quello che volete. Insomma ci sono tanti blocchi, quelli di calcestruzzo qui, mi serviranno per pavimentare. Non posso chiudere perché ogni tanto devo scendere a riparare delle parti che si rompono. Comunque dovremmo essere quasi pronti. Io prendo adesso il mio smeraldino qui, lo appoggio qua. Prendo il lingotto che adesso è quasi praticamente pronto. Lo appoggio qui, sperando che non cada, e martello. Ah, giustamente devo cambiare. Ok. Ok, vedete che ho creato l'anello. Adesso io ho l'anello, lo metto qui, metto dentro anche questo che ho craftato un attimo fa, che non mi ricordo più dove ho messo qua. Prendo questo, lo metto qui e vado in città. La città che conviene meno perché è la più vicina, poi se ci spostiamo ci sono quelle che danno di più. Poi ovviamente magari ci sono altri perché di là vendono, ci comprano altra roba, io non sono mai andato lì. Però, adesso appena entreremo con questa tinozza all'interno del tavolo, ci uscirà già il totale che ci danno. E non se lo valutano tanto in realtà. Quando riesco a fare le cose con il lingotto grande, ottengo anche quasi 1000, 1500, sono arrivato quasi 2000. Quindi all'inizio, ovviamente scavando a mano, i soldi che farete sono pochi, saranno pochi, e sarà abbastanza estenuante uscire dalla lentezza iniziale. Ma continuando, se arriva a questo punto, ovviamente il punto successivo è quello di andare sulle cose logiche o comunque creare una bella catena di divisione di tutti i materiali che vengono poi fusi in automatico. Quindi il rullo potrebbe finire tranquillamente in un crogiolo dopo essere stato diviso per materiale. Ci sono vari macchinari che spostano su vari livelli, varie posizioni, i vari materiali. Questi andranno divisi tutti, quindi può essere tedioso, lo è ancora adesso, però a me rilassa. Prendere due tinozze, tirar fuori solo l'oro e metterlo. Queste sono le pietre, le pietre si ottengono appunto da queste pietre qui con la mola. Ci sono delle aggiunte anche per il rullo che vanno a raffinare le pietre. Però a me non dispiace, ne trovo poche e non faccio proprio ogni tanto. E niente, il gioco è questo, è cambiato tanto, appunto l'aggiunta degli NPC l'ho notata subito. Alcuni vi danno anche un'emissione, cioè vi dicono portami del cibo, io ti do qualcosa. Niente di eccezionale, però carino e di cose ne vendono veramente tanto. Questo vende cose base, potete anche raccogliere il pesce, infatti compra il pesce il tizio, compra il cibo, scusate. Si può, mi pare, forse, adesso non vorrei sbagliarmi, ma devo ancora scoprirmelo bene il gioco ed è quello bello, coltivare. Però non vorrei dire cavolate, perché comprano anche il cibo. La mappa è abbastanza grande. Io vi dico la verità, nonostante si controlli tutto con una mano, nonostante si debba mettere una cosa dentro l'altra, così ho trovato questo gioco molto, molto, molto meno buggato di tanti altri. Il prezzo, prezzo intero, che lo vale tantissimo, 14 euro, scontato con i saldi stimi di questi giorni, 11 euro. Li vale sia 11 che 14, a maggior ragione l'11 euro. Fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima. Ciao ciao.